Credem mette a disposizione di noi dipendenti tante possibilità che vanno anche oltre il lavoro. Credem mi ha aiutato nella scelta scolastica mia figlia, mi ha aiutato quando è stata ora di acquistare la mia prima casa. Ho avuto la possibilità di utilizzare il premio Welfare per aggiornare tutto quello che era l'hardware che mi serviva per fare la didattica a distanza ai miei figli. Il nostro Welfare si rivolge a tutte le persone del nostro gruppo e a tutte le loro famiglie. Il benessere di una persona non è soltanto il suo benessere ma è il benessere di tutto ciò che lo circonda ed è per questo che abbiamo progressivamente allargato le iniziative a tutto quello che sono le esigenze familiari per poi ragionare in modo ancora più ampio la società. Il progetto Diversity è partito tanti anni fa embrionalmente come progetto legato al genere femminile. Subito dopo si è allargato a tutte le diversità. Siamo partiti dalla disabilità, differenze di età, di genere, di orientamento sessuale e affettivo. Siamo la prima banca nazionale ad avere la certificazione di equal salary che attesta che l'azienda ha politiche retributive salariali oggettive e valorizzanti per le donne in azienda. Per rispondere al meglio ai bisogni delle nostre persone abbiamo suddiviso le nostre azioni di welfare aziendale in quattro ambiti. Salute e benessere, tempo libero di risparmio, sostenibilità e supporto personale. Traduciamo in azioni concrete la volontà dell'azienda di prendersi cura delle persone. È una storia di lunga collaborazione, quella fra Credem e la Lilt, Lega Italiana Tumori di Reggio Emilia. Nel momento in cui si realizza la salute del lavoratore, si realizza un benessere che non solo è un benessere del singolo lavoratore, ma un benessere del contesto. A volte si dà per scontato che il lavoratore non debba portare i problemi nel proprio luogo di lavoro. Io credo invece che il luogo di lavoro debba essere un'opportunità per migliorare la propria salute e Credem lo è diventato. Senza differenza c'è solo indifferenza. Diversità è la valorizzazione di ciascuna persona per com'è, per ciò che ha da dare in azienda. È importante capirla e fare in modo che la sua libertà di espressione non venga mai inibita. Well Banking è perché Credem mette le persone in condizioni di stare bene. Sono profondamente convinta che una persona che sta bene di al meglio di se stessa in tutte le relazioni, quindi con i propri colleghi, con i clienti e si sente migliore nei confronti della propria società. Well Banking People